Ciao a tutti ragazzi, io sono Palombo e oggi siamo su Fortnite Faremo un video in compagnia di un mio amico Leo saluta Porteremo Fortnite, abbiamo fatto una partita di riscaldamento così giusto a caso, non è andata troppo bene E adesso registro Speriamo di fare una bella vittoria reale Abbiamo tre tentativi Per provare a vincere Però se vinciamo subito Facciamo solo una partita Magari L'ironia vola ora Hai ragione Ha, ha, ha ho visto un che babbaro ah no ah bravo eh infatti lo stavo per dire sapevo che il tuo cugino faceva il che babbaro ma almeno tu cugino le piace il che bab ma tu non avere cugini ma tu sei orfano più che altro non è madre né padre non è nulla te stai giocando dall'orfanotrofio non so neanche se mi vanno a youtube perchè forse l'orfanotrofio non va bene ragazzi come al solito mettete un bel like iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdermi i miei video di sicuro porterò altri video in compagnia sua o anche di altre persone arrivo leo di sicuro porterò anche fifa però questo canale come ho detto ieri si concentrerà sempre di più su fifa e si scusate rainbow e fortnite ma dove stai ma non è che devi andare a coltivare i funghi no gente da me questa è una persona vera questa sono gente vera da me gente vera da me problemi problemi no vai no no quell'altro l'ho ucciso quell'altro l'ho ucciso l'ho vista ma io ero lì proprio accanto io lo stavo aspettando praticamente si si li sto sentendo spararsi a più non posso cecco tieni a terra uno trepa a questo ragazzi questo qui non è la mia risata e state tranquilli no ah lo siete ciondolone vieni frondolone si forse sarà da andare a buttare perchè ha preso la schedina l'ho visto no no non va a rebottare fai vai a prendere la scheda corri 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 è stupido no ha problemi ha problemi vai si parecchi tu hai problemi no no i pepoli sio vai facciamo un'altra bella partita tanto ne mancano le facciamo ancora altre due e poi ci salutiamo sianmulone sianmulone non così si chi l'avrà mai detto se non Leo ma chi è sì bevi Leo hai problemi Leo zitto si sta giocando ciao Gesù oh baby shop baby no basta fa schifo la fame questa canzone fa schifo quanto Leo lo so ma perché è un tormentone inutile è tipo si insuppa il biscottino uguale a Palermo brava bimba come no io sono sempre sicuro c'hai i capelli così tanto lunghi oh finalmente un pompa vabbè intelligente te mori sempre dalle granate ha ucciso uno non lo so potrebbe essere a me non farebbe schifo un Barret bene arrivo almeno posso un Arpione arrivo arrivo ma persone o cosa Leo dove è il Barret ah scelte qui sotto poverini bagno chimico se non li aspettiamo qui col pompa io guardo come sto oh gente c'è una cavalletta ma questo ma non escono questi eccoli 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 eccolo Leo eccoli Leo Leo eccoli Leo sono entrati no ma quello lì è un bot di sicuro eccolo eccolo Leo a terra dammi il Barret please oh infame ucciso ucciso morto morto un altro Barret ora ce l'abbiamo disintegrati quel team no infame parecchio quello quello è in terra oh dammi Leo dai Leo ce l'ho per fare Leo vieni qua Leo vieni qua Leo vieni qua Leo vieni Leo vieni si Leo vieni corri 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 vieni qua vieni qua oh 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 si Leo si bravissimo Leo cioè lì fuori c'è un medikit ce l'ho pure io un medikit per me bene 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 io vado da quell'altro come i massacrati Leo sceldino per te io torno a 150 te a 125 madonna siamo tornati benissimo sì è vero hai ragione ma poverino quel team che abbiamo disintegrato poveretti soprattutto il primo poverino il primo sì sì ce l'ho ce l'ho sì faccio una cosa quattro no vieni giù Leo vieni giù Leo vieni giù con quelle mine inutili no no mine inutili mine inutili eh no finite sono finite infame sono lì delle mine eh capito entravo qui buttavo il barretto e tornavo su e invece ho trovato le mine via grazie Leo che fai Leo la safe fra la safe no no corri la safe zonna madonna accidenta ste mine sono veramente inutili ho la fame vero ragazzi scrivete nei commenti cioè nel senso quando te le trovi contro sono veramente una cosa io manco una tristezza scrivete nei commenti quanti ne avete fatte se ne avete fatte qualche kill se avete fatto qualche kill con come si chiamano le bombe come si chiamano le mine quelle mine minanti uomo no io ho pure l'aug 90 guarda dove è la safe guarda c'ho il barre e c'è scusa c'ho il launch pad si però dove pinga ah visti ma è uno come ho fatto non che parlo dopo guarda la registrazione come ho fatto a non prenderlo preso a terra ok leo per favore mi lasci il tutto io ti do un po' di roba si leo per favore però non mi rubare la roba per favore leo scildini per te addirittura due e ce n'ho ancora due di riserva pensa te quante roba c'aveva questo sparano no è morto ormai ci sono una barretta dentro da facce è dentro casa leo è dentro casa è in casa freu no no leo altri scildini mi ritengo che ti atti medikit si ma che cosa di voi come di tutto mitragliette no ok ho paura di chiapparmi una cecchinata non può capire perché un colpo di cecchinata siamo morti altri scildini di riserva minigun ci dai qualche colpo per la minigunia io ne ho 300 vabbè va bene va bene va bene va benissimo va benissimo è uguale andiamo 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 in safe corri in safe che è lontana sì ok sì visti visti come ho fatto a non prenderli a non prenderlo ah è quello che ho mai ucciso male aspetta aspetta un secondo mi si sta saltando la connessione aspetta mi sta saltando la connessione un secondo aspetta sto registrando lo so aspetta sto registrando sì ho ucciso ho ucciso va bene massacrati malissimo che ha detto vengo anch'io ce l'hai un medikit? vabbè no no sono già 75 sì cosa ah sì sì hai ragione hai ragione arrivo quante kill hai te? ma io sai bene 10 arrivo arrivo e già non è safe Visti Una in tudice spuglio Ah quello che ti stava sparando da dietro è la terra praticamente Ah quello che ti stava sparando è ormai morto Ucciso quello che ti stava sparando prima che dicevi Aya Madonna quanta gente Ah Ragazzi questa qui sarà l'ultima partita perché stanno durando troppo queste partite Non posso far durare il video 10 minuti C'è un miliardo di minuti Io sto prendo l'aildrop Così Dove è? Pinga Dove? Pinga? Ripinga? Uh gente da dietro Ah Mi ha hitato quello schifo Gente schifosa lì Intanto siamo sopra no? Intanto siamo accanto Scusate ho modificato Attento Ok Tanto non c'è hitato giusto Eh io mi sto concentrando col team Quello davanti Dove ho sparato quel colpo? Oh hanno Hanno ribottato Non ci credo Scusate Ah Ucciso Ucciso No ma mi ha annettato Mi ha annettato Leo è un medikit Bisogna andare in safe Corri in safe Safe Corri Oh Piazza una jump No 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 Dai non mi dispiace E va bene ragazzi E' finita la partita E' finito I tentativi Grazie mille E vi salutiamo E ciao Ciao